Un intervento generale del Lab Barese Spazio 13 sotto il profilo impiantistico e architettonico e una riorganizzazione funzionale dei cinque livelli della struttura al fine di migliorarne la frunzione sociale. Questa è la prima parte del progetto Bari Community Hub, candidato dal Comune di Bari al bando regionale Puglia Sociale IN e finanziato con risorse dell'ammontare di circa 2 milioni di euro per contribuire al processo di rigenerazione urbana e sociale della città. Da due giorni è partito il cantiere della riqualificazione di Spazio 13, una riqualificazione che prevede innanzitutto l'abbattimento di barriere architettoniche ma soprattutto una rifunzionalizzazione degli spazi sulla base delle richieste che le associazioni, i bambini, le famiglie che abitano lo spazio ci hanno richiesto. Nato dalla riconversione della ex scuola media Melo da Bari, Spazio 13 sarà poi abitato dalle attività previste dal progetto Cantieri Spaziali presentato da sette realtà di quartiere e che contribuiranno ad ampliare l'offerta di opportunità per i giovani e i residenti. 23 percorsi di formazione informale che sono partiti a giugno e adesso continueranno rivolte a circa 300 utenti. Sono tutti percorsi gratuiti che abbiamo costruito insieme alle associazioni presenti all'interno di Spazio 13, scuole di rap, scuole di cucina, percorsi per la creazione di podcast, un'offerta importantissima che è gratuita rivolta alle persone tra i 14 e i 35 anni. Il tutto nell'ambito della più ampia strategia regionale finalizzata alla promozione dell'innovazione sociale e allo sviluppo dell'economia sociale in Puglia. È un modo diverso di intendere soprattutto gli spazi e gli immobili che per lo più erano inutilizzati, che oggi diventano invece spazi fisici dove appunto creare economia sociale, dove creare coesione sociale e dare delle opportunità alle nostre città.